Ciao ragazzi, oggi volevo fare 4 chiacchiere con voi su un argomento un po' delicato. Perché? Perché sto sentendo di tutti i colori e non credo sia giusto alcune cose, però volevo dire la mia. Allora, intanto le critiche su Allegri secondo me ormai non ci do neanche più peso sul gioco della squadra. Io dico solo una cosa, se avete fatto caso tutte le squadre che giocheranno in Europa, Inter, Roma, Napoli e Juve hanno fatto fatica. La Lazio ha giocato bene fino a un certo punto, poi è un po' crollata fisicamente, è riuscita a rialzarsi un attimino ieri sera e poi ha vinto i rigori. Ma anche la Lazio che è la quinta squadra che giocherà in Europa ha fatto una fatica boia, sta facendo una fatica boia. Guarda anche la partita con la Juve, ha fatto 75 minuti di assedio e poi è crollata su se stessa l'ultimo quarto d'ora. Ma è giusto che sia così, perché chi gioca in Europa deve comunque essere in forma più avanti, non può essere in forma a gennaio con le partite. Poi per carità abbiamo delle colpe, non voglio discutere questo, quindi sicuramente avrà delle colpe la società, avrà delle colpe Allegri, però secondo me si sta esagerando. Si sta esagerando perché se dopo due giorni io leggo ancora immagini di copertine, Allegri vattene, Allegri di qua, Allegri di là, cioè ragazzi ma fatevi una vita perché state proprio male. Perché se arrivate a insultare un giocatore, un allenatore, la società, quello che vuoi, due giorni dopo una sconfitta, due giorni dopo, cioè con la tua vita che deve essere in teoria ristabilita perché avrai anche altre cose da fare. Se ancora oggi insulti la società, l'allenatore, probabilmente, cazzo ragazzi, devi farti una vita, devi pensare anche ad altro, ve lo dico proprio anche per voi. Comunque il video è chiaro, paragoni 1996-2019. Ecco, tanti stanno pubblicando la foto della Juventus del 96, paragonandola a quella di quest'anno, quella del 96 che vinse la Champions a Roma. Eh ma Lippi è più bravo, Lippi di qua, Allegri di qua, Allegri non è capace, Allegri di qua. Allora, intanto cominciamo a dire che il paragone tra due epoche calcistiche sono le più grandi stronzate che uno possa fare. Non puoi paragonare una Champions dal 92 al 99, 2000, cioè prima che cambiasse il format, con nessun'altra coppa. Come non puoi paragonare le coppe dei campioni degli anni 60 con le coppe dei campioni dei fini anni 80. Come non puoi paragonare la Champions del 2000 con la Champions di adesso. Sono competizioni che nel corso degli anni hanno subito variazioni e sono cambiate in continuazione. Quindi già il paragone non regge. Era più forte la Juve di Lippi o è più forte la Juve di Allegri? Non lo possiamo dire. Secondo me più si va avanti più comunque la squadra migliora. Cioè cosa vuol dire? Che la Juve degli anni 50, se giocasse con la Juve degli anni 80, la Juve degli anni 80 vincerebbe. Se la Juve degli anni 80 giocasse con quella degli anni 90, vincerebbe il 90. Perché comunque c'è sempre un miglioramento, ma non la Juve. Parliamo di Inter, di Milan, di Lazio, di Roma, chiunque. Il calcio si migliora, la disciplina si migliora. Quindi è sempre una crescita costante. E quindi secondo me comunque ci va di mezzo anche l'aspetto tecnico. Non si può paragonare anche perché il calcio di Lippi ti permetteva, non il calcio di Lippi, il calcio di quel periodo di avere magari anche il terzino scarso, l'esterno magari di spinte basta che poteva essere di Livio, o il terzino magari Torricelli, potevi provare a prenderlo dalla caratese perché comunque uno negli 11 non ti cambiava nulla. Negli anni 80 giocava Favero, che spesso faceva fatica perché era nettamente sotto il livello degli altri. Però era un calcio diverso. Non si può paragonare a quel calcio di oggi. Il calcio di oggi secondo me è stato massacrato, è cambiato così, dopo la stagione del Bayern 2011-2012. Quella di Eichens per rendere l'idea. Quello che arriva va alla Juve di 2012-2013, comunque quella lì, dove arriva la Juve di Conte, che aveva un'ottima squadra, comunque secondo me non era così scarsa, dicevamo quel Bayern lì va a Monaco, la Juve va a Monaco e ci lascia lì due pere. Col gol di Alaba, il secondo non mi ricordo neanche chi l'ha segnato, forse proprio Manzucic. A Torino segna Manzucic, me lo ricordo. E cavolo abbiamo perso 2-0 anche a Torino. Ci hanno massacrato. Ci hanno massacrato a donna da territorio. Ma perché? Perché quel Bayern lì era talmente forte che ha creato le superpotenze europee. Da quel momento lì il Real si rinforza e diventa una squadra stellare. Ne vince tre di fila poi. Il Barcellona si rinforza, prende anche Neymar, e forma un tridente, Neymar, Suarez e Messi, nel massimo del loro splendore, nel massimo della loro forma, perché semmai non arriveranno mai più a giocare a questi livelli, quei tre lì. che comunque con quel tridente lì ha fatto addirittura passare in secondo piano, che dietro c'era ancora Xavi, c'era Iniesta, c'era Rakitic. Cioè, una squadra allucinante. Vi rendete conto? C'è la squadra che aveva creato Barcellona. La Juve se l'è giocata con quella squadra lì, con Allegri. Cioè, se l'è giocata. Questo fa capire, fa capire, che piano piano le squadre sono andate a rinforzarsi in ogni ruolo del campo, tanto da evitare, evitare in poche parole, punti deboli. Quindi già le squadre sono molto più forti, molto più complete. E tra l'altro, nel 96, tu avevi 11 fenomeni. In realtà erano 10, più potevi permetterti anche quello meno forte. E potevi permetterti comunque, toh, anche di averne 7-8 in panchina, che sì, devono dare il cambio. Oggi no. Oggi devi averne 11 forti, 11 fenomeni, e 11 campioni. Quindi già più difficile anche, perché il Reale è stato così. Il Barcellona è stato così, il Bayern è stato così. Chiaramente stiamo parlando di fatturati alle stelle, che la Juve in questo momento non ha. Anche se, secondo me, ha un'ottima rosa. ha sbagliato sicuramente qualcosa a livello difensivo, però comunque per me la Juve resta un'ottima rosa. Quindi quando paragonate la Juve di Lippi alla Juve di Allegri, per me è fatta una cavolata enorme. Fate una cavolata enorme. Come non si può dire Lippi è meglio di Allegri perché ha vinto la Champions? Perché la Champions adesso è molto più difficile di vincere allora. Allora, tra l'altro, c'erano solo le campioni dello Stato. Cioè, Italia ne aveva uno. Inghilterra ne aveva uno. Germania ne aveva uno. Francia ne aveva uno. E non aveva neanche gli ottavi di finale. Quindi, cioè, tu andavi, praticamente superavi il girone e andavi direttamente ai quarti. Tu dici, sì, ma erano tutte le campioni di tornei. Però, se prendiamo dei tornei come due anni fa, tanto per rendere l'idea, troviamo il Monaco che ha vinto la Ligue, la Ligue 1, o l'Eister che ha vinto la Premier League, e il Borussia Dortmund che può aver vinto la Premier League, la Bundesliga. Però le più forti restano Paris Saint-Germain, Manchester City, o Liverpool, e Bayern Monaco. Però, con quella allora lì, capitava questo. E ti capitava anche, tornando ancora indietro con la Juve di Trapattoni, che se beccavi, primo sorteggio, trovavi il Malmo. Faccio un esempio. Secondo sorteggio, Panathina e Kos, tu eri in semifinale, senza... oppure il Dudelange al primo turno, perché la Juve ha affrontato anche il Dudelange, o che ne so io, la Juve ne ha giocate di queste partite qua. Ribeccavi i sedicesimi, agli ottavi ti andava bene anche il secondo sorteggio, perché magari beccavi il Nicosia, che va superato la squadra di San Marino, e tu ti trovavi ai quarti di finale. Se ti andava bene il quarto di finale, anche il sorteggio, ti trovavi a caso, praticamente in semifinale. La Champions, parlando, tornando al discorso di Lippi, ha cambiato leggermente le cose, però alla fine non era così distante. La Juve ha avuto la sfiga nel 96 di beccare il Real Madrid ai quarti, che era una delle squadre più forti, però poi alla fine, in semifinale, ha beccato il Nant, che oggettivamente la Juve era nettamente più forte. E poi si è giocata la finale con l'Ajax. L'anno dopo, la stessa cosa. La stessa cosa l'anno dopo. La Juve in semifinale, comunque, ha beccato l'Ajax, ma prima aveva beccato, se non mi ricordo male, l'Olimpia-Cos, se non ricordo male, che era una buona squadra, ma la Juve era più forte. Cioè, prima ti potevi permettere, il livello, non c'erano queste superpotenze, questo che ci sto cercando di far capire. Il Real Madrid di adesso, allora, l'avrebbe vinta per dieci anni. L'avrebbe vinta per dieci anni. Il Bayern Monaco del 2012, negli anni 90, avrebbe vinto tutte le Champions, e il Barcellona la stessa cosa. Questo che vi cerco di far capire, non potete paragonare, non esiste proprio il paragone, sono due cose diverse. Sono due cose diverse. Oltre al fatto che, secondo me, non è che un allenatore che vince la Champions, allora è migliore di uno che non la vince. Bisogna vedere anche i mezzi che ha, e secondo me, i mezzi che ha avuto, per esempio, Zidane, erano nettamente migliori di quelli che ha avuto Allegri, così come quelli che ha avuto Luis Henry, che erano nettamente migliori di quelli che ha avuto Allegri. Però io mi tengo Allegri, io. Cioè, per carità, però, che comunque vincere la Champions non è mai facile. Anche se hai campioni, comunque i meriti ce li hai. Però bisogna anche valutare che squadra alleni o che squadra non alleni. E per questo dico, ragazzi, fate attenzione a dire la squadra del 96 è migliore di questa, quella di questa è meglio di quell'altra. Sono imparagonabili, non potete paragonare neanche questa con quella di Capello e sono passati dieci anni. Non si può paragonare con una squadra che ne ha venti di anni di differenza. Non potete. Cioè, potete, per carità, potete fare quello che volete, ma sono paragoni futili. Futili, perché non possono essere paragonati. Il Real negli anni 50 era una Coppa dei Campioni diversa e il Real ne vince cinque. Cioè, pensate anche a questo, da quando è andata la Champions League l'unica squadra che l'ha vinta per più di un anno di fila è stata il Real Madrid in questi tre anni che sono passati. Gli altri anni chi l'ha vinta è rimasto dietro. Sempre. È sempre uscito. Capite che non è paragonabile, non è paragonabile da quando è diventata quattro squadre, parlo, eh. Cioè, forse l'unico è stato il Valencia che ha fatto due finali consecutive, a memoria, da quando ha fatto la squadra, parlo delle squadre, da quando è diventata Champions, a quattro squadre per nazioni. Valencia e Real Madrid che le ha vinte tre di fila, ma poi non ce ne sono altre se non ricordo male. Cioè, con una squadra, mi ricordo la Juve di Lippi appunto, che ha fatto tre finali di Champions consecutive, tra l'altro vincendone una, quando era superiore su tutte e tre. Cioè, anche questa cosa là bisogna rendersene conto. Cioè, come se Zidane avesse fatto tre finali di Champions con questo Real nettamente più forte delle tre avversarie, cioè, il Real era più forte sia dell'Atletico che della Juve che dell'Atletico che del Liverpool. Se Zidane avesse vinta una, Madrid se lo mangiavano. E noi invece continuiamo a dire che Lippi è nettamente migliore di Allegri perché ha vinto una Coppa dei Campioni. Però bisogna anche forse star vicino alla squadra e sperare che magari arrivino a vincerla perché questa squadra ha un potenziale enorme. Un potenziale enorme. Ragazzi, quindi chiudo quel video. Ricordate, quando fate i paragoni i paragoni non bisognerebbe mai farli ma quando li fate non andate troppo in là con gli anni perché bisogna sempre tenere presente il periodo storico quando si vivono certe cose. Anche perché nel 90 la Juve aveva una potenza economica enorme e adesso siamo indietro rispetto alla Premier League o alle squadre Real Madrid-Barcellona-Bayerno-Monaco e Paris Saint-Germain. Quindi, con calma stiamo vicini alla squadra perché la squadra è forte e non sarà sicuramente l'eliminazione con l'Atalanta a fermare questa Juve. Io vi ringrazio per aver visto questo video e vi do appuntamento con i prossimi. Ciao!